siamo in bolla sono un graffista, un freccano questo è buono, buona bordo non è un po' il nostro corso è in questo modo non è un po' 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 Grazie a tutti. 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 È come dare bicicletta. Yeah. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Ciao a tutti. 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 spettacolo. a tutti. a tutti. a tutti.